Sette padiglioni distribuiti in 40.000 metri quadri, mille espositori dei quali 22% provenienti dall'estero, più di mille buyers, oltre ai 20 e workshop. Presentata al Ministero delle Politiche Agricole a Roma la 33esima edizione di MacFruit, la fiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà alla fiera di Rimini dal 14 al 16 settembre. Già l'anno scorso è stata la prima edizione fuori da Cesena e quindi una nuova location, abbiamo aumentato l'area espositiva del 50%, quindi un qualche cosa inimmaginabile nella location cesenata. Quest'anno l'edizione del 2016 è ancora un ulteriore passo in avanti, un 20% in più di crescita, un nuovo padiglione, quindi passeremo da 6 a 7 padiglioni, ma soprattutto ci sono tutte le premesse perché sia veramente un'edizione dei record, non solo come superficie ma soprattutto come qualità, perché sia la presenza estera come stand ma soprattutto come buyer esteri, quindi compratori, gente che viene a comprare frutta, tecnologie, che viene a ricercare opportunità di business, passerà dai poco meno di 400 dell'anno scorso ai 1000 operatori di quest'anno Grazie. Grazie.